Ragazzi finalmente è arrivata, sto parlando della Honda Africa Twin CRF1000L e qui ve lo devo dire sono un po' di parte perché io ho la vecchia, la capostipite, la RD07 per cui a vederla dal vivo questa moto devo dire subito che mi piace, ha le stesse proporzioni, è snella, è una buona escursione delle sospensioni, il bicilindrico L95 cavalli per cui è tutto nuovo e assicura, promette, promette un'ottima affidabilità come accadeva con la nonna, la marmita è piuttosto alta, insomma è veramente una bella moto, a me piace, piace molto, per i più pigri, poi vera novità, il cambio DCT, dual clash transmission, che elimina la leva della frizione e aggiunge in fuoristrada, unica per questo modello, la modalità G. La Recma 2015 Honda presenta in tema adventure sempre questo concept ADV, che altro non è se non uno scooter con cerchi a raggi e ruote tassellate, quindi con una vocazione fuoristradistica. Oltre ai doppio freno a disco anteriore, vediamo anche un cupolino piuttosto protettivo, una pedana abbastanza generosa e una marmita alta in pieno stile enduro. La X è sempre una lettera importante in casa Honda, che porta tutta una serie di novità, a cominciare dall'NC750X, che ha un cupolino adesso più alto, di 7 cm, una nuova strumentazione digitale e un edito faro a LED per farsi vedere meglio di notte. Come altre della famiglia, anche lei ha una nuova modalità S del cambio DCT che si divide ora in tre livelli, S1, S2 ed S3. Passiamo poi alla CB500X, che conquista anche lei gruppi ottici a LED, un cupolino più alto, di 10 mm, e un leveraggio del cambio più preciso. Novità anche per la Honda Cross Tourer, che per il 2016 conquista l'omologazione RO4 per il V4 che ha base di 129 CV e per le versioni con il cambio DCT conquista anche tre modalità, sotto modalità della modalità S, quindi S1, S2 ed S3. Inoltre abbiamo anche la presa 12V per ricaricare smartphone o navigatore e il parabrezza regolabile, perfino in marcia con una sola mano. La Travel Edition, invece, che è una versione speciale nuova anche lei, conquista borse laterali e bauletto di serie, protezioni in alluminio e fari pendinebbia a LED. Inoltre questa è l'unica colorazione disponibile in Italia con il Candy Prominence Red. Novità anche per la Honda Integra al Salone della Moto di Milano. Cosa cambia? Beh, intanto conquista nuovi gruppi ottici a LED e un quadro strumento a retroilluminazione negativa, che permette anche di scegliere il colore che più preferite. Nuovo è anche lo scarico e la forcella, che adesso è una Showa del tipo Dual Bending Valve per una risposta più lineare sulle buche. Non manca poi, per la versione col cambio di CT, la solita modalità sport su tre livelli e l'omologazione di inquinamento Euro 4. Sulla stessa base della Integra c'è anche però l'NC750S, che conquista modifiche di dettaglio per questo EICMA. Innanzitutto, in Italia è disponibile solo con il cambio a dopoaprizione di CT. Il motore è sempre il bicindico parallelo da 55 CV, ma Euro 4. E ci sono nuove colorazioni, la stessa strumentazione che abbiamo visto sull'Integra e gruppi ottici a LED. Sempre senza dimenticare la modalità del cambio automatico S divisa in tre. La CB500F ad EICMA porta un nuovo sguardo con un faro a LED, nuove colorazioni più aggressive, un nieto terminale di scarico per un sound un pochino più presente rispetto al passato, molto importante leva a freno che adesso si può regolare, quindi migliore ergonomia, nuova forcella con regolazioni più accurate e un serbatoio un pochino più capiente, che arriva quasi fino a 17 litri. L'altra faccia della medaglia CB500 è la CBR500R, che come vedete è una versione dall'accento molto più sportivo, quindi semimanubri, comunque leva del freno regolabile, sovrastrutture molto snelle e fra le gambe del pilota lo stesso bicilindrico parallelo da 48 CV della CB500.